Del corso mi sono piaciute tantissime cose, l'energia che si vive, la grande famiglia che è questo gruppo perché è stato facilissimo integrarsi, perché sono venuti fuori dei lavori molto intensi e questi lavori è stato facile anche condividerli con tutti i vari partecipanti e soprattutto Patrizia è molto... cioè nel darti quegli input profondi è molto tranquilla, leggera e divertente ma ti arriva come un treno, come un caterpillar. Lo consiglierei perché è un grande passo avanti perché è importante seguirla nelle varie dirette che fai lunedì ma questo senz'altro è un salto verso un'evoluzione che è quella che poi cerchiamo. Da questa esperienza mi porto a casa una grandissima energia, una voglia di espandere per evolvermi, per continuare la mia crescita, per stare bene. è una grande connessione di cuore, è veramente tanta roba. Ho lasciato andare diverse paure, diverse pesantezze senza altro dovrò continuare a lasciare andare però mi porto a casa tanta energia per continuare in questo percorso, per continuare a lasciare andare a crescere. Io sono felicissima di essere qui nonostante tutte le resistenze che ho potuto fare nonostante tutte poi le difficoltà, i problemi che sono arrivati nel poter decidere di partecipare. A Patrizia dico un immenso grazie, un abbraccio di luce immenso e io credo che la porterò nel mio cuore quotidianamente cioè lei è tanta roba, è veramente... è luce, lei è luce. Grazie a tutti! Grazie a tutti